Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video della carriera Riesco finalmente a registrare nuovi episodi, spero di farne almeno due Usciranno e... allora, stiamo andando a ritmo un po' più lento perché ho milioni di cose da fare Per cui non riesco a stare al passo, però voglio concludere al meglio questa stagione Innanzitutto, che è la seconda, con New Ponton E poi eventualmente vediamo se affrontare la terza o comunque portare fino a fine gioco, diciamo, questa carriera Poi vedremo come si sviluppano le cose Se questo canale andrà verso una direzione diversa, quindi vedremo se prenderà una piega diversa Vediamo se... che gioco ci sarà il prossimo anno Perché non si sa se ci sarà FC, se ci sarà FIFA, se ci sarà PES, non si sa niente Vediamo in che direzione andrà il canale Intanto io per tutti quelli che si iscrivono sono contentissimo perché mi date modo anche di volere Perché se io finisco quest'anno, questa stagione di FC con totti iscritti Allora ho anche la motivazione giusta per continuare a fare qualcosa È chiaro che qualora non c'è questa opportunità È stata sicuramente una bella pagina, bella divertente Comunque siamo nel percorso per adesso con questo secondo account di YouTube Io comunque andrei avanti, poi sicuramente farò un video specifico per quanto riguarda questo discorso Io partirei con le partite Ricordate tutti la classifica, purtroppo le ultime le siamo andate veramente a toppare Ma abbiamo beccato dei big match Vado a fare la formazione e ci vediamo in campo Nel nostro stadio torniamo per fare la differenza New Ponton-Frosinone, dobbiamo vincere per forza Solo quella parola vogliamo leggere nel vocabolario È iniziata al minuto 3 Subito noi in possesso di palla con Pagano Zirk Zee, non vi leggo la titolare C'è una novità super che è Bernard Titolare a sinistra Ha servito subito Bernard Prova a calciare col destro, lo tiro deviato ancora a Bernard Doppia deviazione del portiere Calcio d'angolo, subito Bernard Prova a dare risposte positive Parte Prati, bandierina, primo palla Cercare il capitano Gallo la tocca Palla che arriva poi da Cerofolini In maniera morbida, morbida Pronto a rinvio lungo L'estremo difensore italiano Bonifazzi va a lottare Prati in qualche modo recupera il pallone Longo, con calma Torna da Bonifazzi Nessuno scappa solo la difesa del Verona Pagano appoggia poi da Andurra A limite, Andurra Traversario Zirkzee Anticipato dal difensore Mamma mia che bolide di Andurra col destro Che ha qualcosa su Russic e perde anche il pallone E allora Laurecala Palla per Alvarez In area di rigore Alvarez, Gallo non deve far fallo Non lo fa neanche Longo E Pagano Recupera, prova a far ripartire Anthony Che cerca Zirkzee Zirkzee protegge il pallone Prova a scarpare via L'olandese Velocissimo Chiuso poi da Small Che va da Burabia E allora eccolo Caso Punta l'avversario Caso Prati Ottima Cusura di Prati Che va da Bonifazzi Andurra di prima Prati Ancora Andurra Andurra Punta col mancino Poi lancia Zirkzee Che controlla Zirkzee Alexandro di prima Prati Pagano Nelle di rigore Pagano Palo interno Il secondo palo Poi Prati qui fa fallo Calcio di punizione Secondo palo Il minuto 45 Pagano vicinissimo Il gol dell'1 a 0 Palo interno La palla non entra Finisce il primo tempo 0 a 0 E pronti per l'inizio di questo secondo tempo Con due cambi Nella New Ponton Attenzione perché il Frosinone inizia malissimo Prati recupera un gran pallone Prati si è involato solo verso la porta Prati salta tutti Prova al sinistro Cero Folini Fa un altro grande intervento Ancora calcio d'angolo Si presenta Prati Cross dentro A cercare la testa del capitano Che sempre lui di testa Mette dentro il gol dell'1 a 0 Il nostro gallo Abbiamo iniziato in maniera molto molto aggressiva E stavo dicendo Sono stati effettuati due cambi Fuori Bernard E dentro il Sharawi In realtà è uno solo Quindi un solo cambio E il Sharawi per Bernard Andare ad azzannare appunto la gara Grande pressione di Prati Brutta palla persa dal Frosinone E poi da calcio d'angolo Arriva l'incornata Per l'1 a 0 Pagano Porta palla Cerca Anthony Largo a destra Punta Anthony Fino in fondo Anthony Cross dentro Per Zikze Palla che non arriva Il Sharawi anticipato Ancora Andur A tenere la palla viva Pagano Apre col mancino Anthony Anthony Pagano Pagano Zikze di prima Andur Col mancino Ancora Cerro Folini Che sta facendo Il fenomeno questa sera 58 sul cronometro Il Sharawi Prati E' uno scambio corto Tra i due Prati Lo schermo è buono Sul secondo pallo Per Zikze La palla è fuori misura L'idea era Ottima Ottima chiusura Alexander è tornato Trova Gallo Pagano Con calma da Longo 72 Giro palla New Ponton Porta palla a Longo Longo poi Appoggia per Zikze Che controlla il pallone Zikze Resiste la carica Zikze Entra nelle tricore Zikze Poi si ferma Appoggia per Anthony Si fa Dandur Prati Prati dal Sharawi Sul sinistro Sappiamo tutti che non calcia Allora Prati Longo Cercato Anthony Anthony scarica Ancora da Longo Tutto chiuso Palla ancora per Prati Che può provare Il destro Invece appoggia da Boni Fazzi Che riapre Prendur Tutto chiuso Alexandro El Sharawi Prova a inventare El Sharawi Cerca Zikze Che protegge Zikze Appoggia ancora per El Sharawi Che va sul destro El Sharawi Al minuto 81 L'azione è ricercata continuamente Perché è tutto chiuso Il frasinone Alla fine Trova lo sbocco Giusto El Sharawi Accentrandosi 1-2 Con Zikze Che protegge bene Appoggia E 2-0 Stefan El Sharawi Al minuto 81 Forse Torniamo alla vittoria Sono 3 punti Ragazzi Importantissimi In chiave classifica Attenzione Quindur Intanto impressione Su Arrué Che prova ad andare via Arrué Cercato caso Trovato Palla poi dentro Per il rig Gallo Non vuole prendere gol All'allenatore E penso neanche Tutto il new pontone Gallo Va da Zikze 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 Punta l'avversario Cioè Anthony Largo Adesso un po' Sbilanciato Il frasinone Anche troppo Anthony appoggia Ancora da Zikze Che poi cambia gioco Per El Sharawi Che di testa Prova ad anticipare Il terzino Del frasinone Non ci riesce Allora Alvarez Può partire in contropiede Palla ancora per Canotto Apertura Molto Bella per Small Che però viene chiuso Longo Lancia Anthony Anthony prova ad andare via Scappa via Molto bene al difensore Che si prende Un meritatissimo Martellino giallo Alage Brutto fallo Calcio di punizione Calage anzi Calcio di punizione Partirà Longo E poi ci sarà Il triplice fischio Longo Prova il cross Sul secondo palla Cercare Prati Non lo trova C'è Cero Polini Che ha fatto Forse il migliore In campo Del Verona Tre punti Importantissimi Andiamo subito Dentro al prossimo match Perché sto veramente casato Squadra che vince Non si cambia Seconda partita In casa Per il New Ponton Che scende in campo Con la stessa formazione Della vittoria In casa Sempre con Il frasinone Per 2 a 0 E inoltre La classifica ci dice Che siamo In zona Europa League Quindi Quinti in classifica Più uno dalla Fiorentina Che in zona Conference E a pari punti Con il Napoli Che è in zona Champions League Hanno perso punti Anche le altre C'è da portare a casa Sempre e solo I tre punti Contro un grifone Che proverà A portare a casa Dei punti Importanti Penso in chiave salvezza È iniziato il match Al minuto 7 Leyes Porta palla Cerca Kevin Struttman Che può aprire il gioco Invece va ancora Da Leyes Porta palla Il 20 Poi della Genua Sabelli Appoggia per Ruiz Che si inserisce Ruiz Molto pericolosi Ruiz Palla per Retechi Longo chiude Bernard In anticipo Attenzione perché Edward adesso è pericoloso Nel e tricore Edward Palla ancora per Retechi Colmancino Martinez Risponde ancora da campione Calcio d'angolo 41 sul cronometro A meno 5 Alla fine del primo tempo Parte Struttman Cross col Mancino Va a lottare La palla rimane lì Longo fa un miracolo Sulla linea Fuso un mensale Lontana malissimo E alla fine Pasticciamo tre volte E alla terza Ci puniscono Edward 1-0 Genua Colmancino Alla fine cerca Walter Lo trova Ancora pagano Da Zig Zig Che deve proteggere Lo fa molto bene Apre prati Per Longo Si butta dentro Longo Cendur Se l'allunga Dragusin Ha capito tutto Prova a ripartire Contro Peter Ruiz Che viene chiuso Da Prati Che poi la tiene in campo Molto bene Alla fine guadagna Anche la rimessa laterale Al minuto 64 Prova a reagire Il new pontone Longo Ndur Giro palla A centrocampo Con Prati Che fa un passaggio orizzontale Pericolosissimo Regala ad Edward Che lanciare per Retechi 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 Per chiudere il match Retechi Al minuto 67 Il Genua Raddoppia E chiude il match 2-0 Or Matteo Retechi E ci siamo dati La zappa Sui piedi da soli E col destro Conti risponde Calcio d'angolo Peccato Parte Prati A cercare ancora Gallo Gallo Dragosin anticipa Grande cliente Dragosin lì Prati Walter Walter prova a entrare Nel regore Ancora Dragosin Che ha fatto una prestazione Veramente superlativa Al Sharawi Impressione Rimessa laterale Qui c'è il gelo Sugli spalti Per i tifosi del new pontone Perché sta per arrivare Il triplice fischio Al Sharawi Qui recupera Trovato Kuni Ancora Dragosin Migliore in campo del Genoa Ndur recupera Ma finisce qui 2-0 Il Genoa Espugna Il campo del new pontone E va a rubare Dei punti fondamentali Andiamo a vedere La classifica E poi ci tuffiamo Nell'ultimo match Che a questo punto È inevitabile Vincere Tuna ha voluto Che Napoli E Fiorentina Hanno toppato Quindi la classifica È rimasta invariata Ora abbiamo La preoccupazione Della Lazio Che è fuori Dalle competizioni europee Ma è a meno 5 Dal nostro posto E qui c'è La partita Forse più importante Della stagione Lo spartiacque Fiorentina New pontone Si va In casa della viola A vedere cosa accadrà Perché Chi vince Ragazzi Possiamo guadagnarci Probabilmente Quasi sicuramente L'accesso alle coppe E allora pronti Ragazzi Per il match Più importante Uno dei più importanti Nella top 3 Sicuramente Della stagione Fiorentina New pontone È scontro Europa E andiamo a vedere Cosa accadrà Io ho fatto una pazzia Ho messo Ho tolto Prati Da davanti alla difesa L'ho messo Mezzala E Attenzione Si chiama il Sharawi Che è stato lanciato Da Alexandro Il Sharawi Appoggia per Pagano Col destro Sul primo palo Terraciano Si fa trovare pronto Calcio d'angolo Non so se sia Terraciano Prati intermedio Fusumensà Davanti alla difesa A fare legna Legna Parte Prati Col destro Primo palo Il Sharawi Che non anticipa Di pochissimo Il difensore Prova a ripartire E allora Anzola Fusumensà Che prova ad andare via Fusumensà Appoggia poi da Zirkze Lanciato Walter Che di prima Cerca Fusumensà Si è inserito perfettamente Fusumensà Sposta palla a calcio Col destro Al minuto 18 Fusumensà Colui Che non doveva giocare Questa partita È stato messo davanti La difesa Ci eravamo ripromessi Di non mettercelo più Invece ce l'abbiamo messo Scelta ripagata Walter di prima Ha trovato Fusumensà Che punta il portiere Che va a terra Troppo presto Sposta palla E fa 1-0 Fusumensà Fuori casa È fondamentale Dover vincere Questa partita Parisi Prova a rispondere Subito la Fiorentina Che sicuramente Ha approcciato il match Comunque aggressivo A cercare di andare A fare il risultato Darmian Barak Barak Avrà ancora da Parisi Prati C'è da correre Lo fa Rugallo Chiude molto bene Poi Prati Col destro Walter Cerchiamo di colpire In contropiede Walter Cercato Zikze Che poi allarga col mancino Cagliote Si è staccato dal Sharawi Ha fatto la cosa più Sbagliata che potesse fare Il Sharawi Fino a fondo il Sharawi Stefan El Sharawi L'acquisto più importante Della nostra stagione È arrivato da gennaio Con lo scambio con Vitale Stefan Il Faraone El Sharawi Cagliote Male 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 New Ponton Bene 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 2-0 E allora Al minuto 26 Siamo in vantaggio di 2 E qual è la brutta notizia? Non è una brutta notizia Ma è un mezzo rimpianto Aver buttato La partita con il Genoa Ma c'è da continuare a giocare Perché comunque La Fiorentina Spinge E quando lo fa È pericolosa Mandragora Ha cercato ancora Nico Di prima Nico Da Nzola Nzola Gallo Che sta giganteggiando Lì dietro Martinez Rinvia Cerca Russo Che poi metta a terra Molto bene Trovato Pagano Pagano Zirkze Oggi ci troviamo a meraviglia Palla di Prati Larga per Walter Colmancino Palla perfetta Ancora Walter Fino in fondo Walter Si ferma su Parisi Walter sposta E calcia Grande risposta di Recess Che poi in due tempi blocca Grande azione di Walter Che deve giocare di più Perché fa la differenza Quando gioca Rinvio lungo Gallo Va a lottare Alexandro Aprile col destro El Sharawi Cupunta Cagliote Troppo inestrativo E' esperto rispetto al faraone Lo salta In qualche modo Anche con un pizzico di fortuna Si ferma El Sharawi Cercato Zirkze Zirkze Prova a rientrare Palla fine appoggio da Walter Tutto chiuso Fusun Mensah Decide di aprire Per Longo Longo punta Parisi Uno scontro molto interessante Quello su quella fascia Longo Vada ancora da Pagano Al limite Pagano Fusun Mensah Cercato Prati Stefan El Sharawi Con il suo marchio di fabbrica Parisi che è costretto a Pagano Gallaccio Calcio di punizione Dunque andiamo a più 4 Dalla zona conference E quindi più 4 In Europa League Vediamo che ha fatto il Napoli Perché è importante Saperlo in zona In ottica Champions League C'è il Napoli Che la partita precedente L'ha pareggiata Noi l'abbiamo vinta Contro la Fiorentina Per cui il Napoli Adesso deve stare attento Alla Fiorentina Dietro E deve provare a riprendere noi Quindi a meno 2 Dalla Fiorentina Più 2 da noi Il contrario Più 2 dalla Fiorentina Meno 2 da noi Noi invece siamo A più 2 dal Napoli A più 4 Dalla Fiorentina Che è un'ottima notizia Adesso abbiamo l'Atalanta Che è a 51 Quindi è sempre uno sconto diretto Anche se Ormai io spero Che sia consolidato Il discorso Europa Come ho già detto Andiamo a vederci il calendario Chi affrontiamo nelle prossime partite Ci salutiamo Affronteremo Atalanta Monza E poi forse Qui ci sarà il match dell'anno Forse Perché vediamo Comunque ci sono 6 punti Prima di questo sconto diretto Diciamo che Tolto L'Atalanta Tolto il Napoli E la Juventus Sono rimaste totali 4 e 6 partite Quindi su 6 partite 3 big match E 3 match abbordabili Vedremo come andrà a finire È una carriera veramente devastante Io vi lascio Vi saluto Al prossimo video Mi raccomando Bella a tutti